Qui siamo in via Bignone 40, acqua avunque, con la pioggia, tutte le case distrutte. Ieri non si può neanche 6 ore da mattina che noi siamo, da quando l'hai visto, quindi noi stiamo pulendo, secondo me questa la puliamo fino mattina perché abbiamo paura di dormire, se no, guarda, ovunque, tutto danneggiato, va vedi? Qui siamo in via Bignone 40 da quasi 10 anni così in questa piscina, scarafaggi, la casa è fatta di tutto, quindi nessuno vuole che la mettiamo, però se viviamo nei scarafaggi, ovunque, acqua, conviene l'accessore, acqua ovunque, scusa, via Bignone 40, via Ettore Bignone, quindi neanche il corridoio c'è più, non c'è neanche luce nel corridoio, la casa è buio, arrivano sempre quelli che vengono a rubare un anziani sotto, pure sopra, allora